Chi volete? Siamo venuti per il suo figlio Vito. Perché? Don Giccio pensa che è una testa pazza come il suo paese. E me lo puoi portare indirizzo. Da questo caso ci penso io. Siamo venuti per il suo figlio. Vito, devi vedere. Che schifo! Siamo venuti per il suo figlio. Che schifo! Che schifo! Che schifo! E' una canzone siciliana. Oh, già! E siuri, siuri, siuri di tutto l'anno. Laurega! Raste tutto al rogno! E canto pure l'odere, eh? La donna immobile, quale più malvenza, bufala, c'è... Complimenti, veramente, sulle malvenze. Grazie, bravi, bravi. La moneta. Come ci pensate? Viene domani, domani, viene domani. Romani, 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 romani. Come ci vai a tagliare? Io, io, io! 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 Non lo so, non lo so. I pecciotto non su assassini, eh? Solo faccio lavoro per fare uno scantaro, sai? They make me look bad, you know? Fucking kill a man like Ferrucci. Perchè? 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 E' giù un contenente. Un contenente? Tu sai che io avevo le spalle accopolate? Ma, assommunire, assommunire, non lo scusso. Tu aspetta per lì, so che succede, questi piccoli non lasciati. La barriga, signor. Dammi un attenzione. Si. Ma! 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 No, aspettatevi altri. Sì, sì, cosa hai fatto? Agostino Coppola? Sì. Mi pensavo di Agostino, che mi rinalazzerci tutto l'altro. Non c'è altro, non c'è altro, non c'è altro. Chi sta a cazzo, figginino? Che se è mio figlio l'anni, Carmine, non mi scantate, potete parlare. Hai sicuro? Mi credo, mio figlio ti conosci queste cose. Ehi, Carmine, camminha, go to get your flute. Ehi, play something for my friends. Che? The song, a canzuna that I like. What's it called? A canzuna, chi ti è che mi piace a me? . . Buongiorno, signor. Signor, I got these dresses here for $5 apiece. You'd have to pay at least $15 or $20 for them in any one of the stores. You'd have to pay at least $15. I don't like it. Then we'll have another one. You'd have to pay at least $15. You'd have to pay at least $15. Pino, puttaci il resto in tuo magazine a Dandine. Dandine ce le porta al distributore. Grazie. E tu hai più esperienza del Dio? Prima di capire che questo business è nuovo. Lo capisci, lo capisci. Ma ringrazio per parlarmi come un parito. Tu sei un picciato buono. Tu mi rispetti, la gran cosa è un picciato. Bene, queste stelle stelle, eh? A proposito, tu sei maritato? Eh. Ah, peccato. Io c'ho tre figli, maritari. Pagato. Voglio ascoltare. 200 scude a testa. 200. Tu credi che resti contendo questi 100 scude all'uno? Ma io penso di sì. Tu con noi che facciate il viato, vieni a sapere. Vieni a sapere quanto do servire. Un seppiglio non so da un mezzo. Quero 100 dollari l'uno. 100 dollari. La signora è una amica mia, eh? She wants to talk to you. signora colombo mio marito la signora wants to ask un pochino d'anni sette signora grazie io sono con un tavolo di domanda sbagliato come entro l'assata domando gli abbasio aspera aspera io vado mano a sto favore e basta ma tu devi creare che si è un mucoso comunque guardate un pendulone si ha capito io non capisco di farlo più ma anche io mi voglio sbagliare allora lasciamo stare no? ma io te prendi questi soldi come se ti puoi volere e pensaci tu vieni a parte ma signor roberto io come voglio sbagliare ma anche io come voglio sbagliare e allora lasciamo stare no? ma io come voglio sbagliare eh come voglio sbagliare ma anche io ma non Vito, i loro litori sono qui. Roberto, the one who wants the red holes. I just found this kid here on the street and he's real good with cars. He looked at the truck and he says, uh, he thinks he can fix it. He opens what he sees. Hey, what's, uh, what's your name? Suchowski. Hyman Suchowski. Yeah, but, uh, we're gonna dump that. Uh, I call him Johnny Lips. Well, uh, we give him a better name. Uh, who's the greatest man to you in the whole world? Hey, come on, Hyman. Answer Mr. Corleone when he talks to you. Yeah, who is it? Is it, uh, Columbus, uh, Marconi, who, Garibaldi? Arnold Rothstein. Arnold Rothstein. Rothstein. Huh. I like that. Hello. And we call you, uh, Hyman Rothstein. Viggo! Viggo! Let up in here! Viggo! Ross?... ... Grazie a tutti 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 Michael, say goodbye Grazie a tutti 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 Grazie a tutti